Dopo sette mesi di chiusure obbligate dalle restrizioni da pandemia, il 22 maggio tornano a riaprirsi i negozi all'interno dei centri commerciali anche durante il weekend. Un provvedimento molto discusso, molto contestato dagli stessi esercenti che ora finalmente possono esprimere la loro soddisfazione per questa nuova concessione. Finalmente dopo sette mesi di lunga prigionia riusciamo anche noi a essere liberi il fine settimana di poter fare commercio che è quello che poi è il nostro lavoro anche perché erano tutti aperti gli esercizi all'esterno ma gli unici chiusi eravamo noi. Noi non abbiamo mai fatto assembramento, non ci sono mai state più di tre persone all'interno dei negozi per cui era una regola assurda che andava assolutamente superata. Finalmente ci siamo. Abbiamo perso i mesi più importanti perché dicembre dei saldi e siamo abbastanza in ritardo. Speriamo in questo weekend, in quelli a venire, che sarà una buona ripresa anche se diciamo che è partito male l'anno. Però noi siamo fiduciose e speriamo bene. E soprattutto si è dovuto convivere con un provvedimento molto discutibile. Discutibilissimo anche perché noi come centro commerciale siamo stati penalizzati da subito, cioè noi poi avevamo qualsiasi protocollo per mantenere degli ingressi contingentati, misuratore di temperatura e siamo stati penalizzati da subito. Quindi ne abbiamo poi accusato la mancanza di fatturato, di persone, soprattutto noi tra cassa integrazione e comunque personale. Noi abbiamo riscontrato abbastanza perdite.